Almeno 8 persone sono morte, d'altre 10 sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato nell'hotel Tokyo Star di Odessa, nell'Ucraina meridionale. Dal sito, che vanta 273 stanze, sono state evacuate circa 150 persone. L'incendio ha preso corpo in piena notte. Il locale servizio d'emergenza non ha precisato la causa scatenante né ha chiarito quante persone ci fossero nell'albergo al momento dell'incendio. I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per domare le fiamme, che imperversavano su un'area di circa mille metri quadrati.